E lui è uno dei volti della televisione italiana, accompagna i sabati sera degli italiani sul Rai 1 affiancando la straordinaria Millie Carlucci in Ballando con le stelle. Ma è anche cantautore, conduttore televisivo notissimo e torna qui nella nostra città a Napoli per portare in scena da stasera fino a domenica 19 marzo al teatro Troisi di Napoli il suo ultimo spettacolo così titolato Pur di fare commedia. Insomma è piacere di avere qui con noi lo straordinario Paolo Belli. Ciao Paolo, grazie di essere qui nella nostra trasmissione di Mattina Live. Grazie, grazie a te, grazie a voi. Hai solo dimenticato anche il fatto alto, biondo, con gli occhi azzurri e magro. Alto, biondo, con gli occhi azzurri e magro e che tutte le volte ci fa sognare, ci emoziona. Vabbè, adesso si capisce che stai esagerando. Grazie, grazie. Sono io a dirti grazie dell'invito e soprattutto del fatto che tu abbia già ricordato che da questa sera fino a domenica saremo al teatro Toroisi. Esatto, perché su palco porterai questo tuo nuovo spettacolo Pur di fare commedia, un grande show che ti permetterà di portare sulla scena la tua carriera e le avventure che hanno caratterizzato la stessa Paolo. Guarda, devi sapere che quando abbiamo cominciato questo spettacolo, questa commedia, ero molto sicuro che potesse piacere, che piacesse perché è scritta da Alberto Di Risio, colui che ha scritto e non solo per tanti anni ma ha fatto anche varie regie, tra i quali anche Celentano, Fiorello, Panariello, quindi insomma è una firma che garantisce molte cose. Però devo dirti che l'anno scorso, quando sono venuto per la prima volta qui a Napoli, qui al Toroisi, era un po' come andare all'università del teatro, no? Perché insomma la scuola napoletana, il teatro napoletano, tu mi insegni che è il top, è il teatro. Partendo senza, insomma, Scarpetta, Edoardo, Totò, eccetera, eccetera, esatto. Sta di fatto che avevo molta paura e invece un po', come ti ho detto, perché lo spettacolo è veramente bello, fa morire da ridere, c'è tanta musica, c'è gran parte della mia vita, quindi si raccontano anche storie che sono chiaramente molto divertenti ma storie che piace alle persone ascoltare, però anche perché il pubblico mi ha voluto talmente bene che quest'anno Pino, il direttore del teatro mi ha voluto di nuovo questo spettacolo, naturalmente è tutto rivisitato, ma io gli ho detto, ma perché? Mi ha detto Paolo, perché hai avuto tante richieste. Il pubblico ti cerca. Esatto, quindi invito, ci sono rimasti ancora un po' di biglietti, invito tutti quanti a venire, perché mi piacerebbe prendere la lode. L'anno scorso ho preso la laurea, quest'anno mi piacerebbe prendere la lode. Tra l'altro ricordiamo anche che c'è un'ottica di continuità per quanto riguarda questo spettacolo, perché pur di fare commedia si lega per l'appunto ad un altro tuo spettacolo, che ha riscosso grandissimo successo e che già ci lascia un po' intendere quest'ottica di continuità, ovvero pur di fare musica. Però che cosa cambierà questa volta Paolo? Cambiano gli aneddoti, chiaramente gli interpreti sono sempre quelli, quindi c'è il chitarrista sordo, ci sono i quattro gemelli che si odiano l'un l'altro, però cambiamo i testi, sono cambiati i testi e raccontiamo, praticamente questo è un po' il racconto della mia vita barra nostra vita, di chi fa il nostro lavoro, chi va in giro in tournée e ne capiano in tutti i colori. Ad esempio stiamo già pensando allo spettacolo nuovo, e devi sapere, quindi nello spettacolo che vedrete in questi giorni, ci sono un sacco di aneddoti molto molto divertenti, ma te ne racconto uno che farà parte già dello spettacolo, che chiaramente è quello di stasera e questi giorni, non voglio spoilerare nulla. Devi sapere che un anno mi chiamò un amico qui di Napoli, e diceva, all'ultimo dell'anno sei a fare un concerto qui a Napoli, ci vediamo a Napoli, al Capodanno. No, guardi, io al Capodanno quest'anno sono a Torino, no, no, ci sono i manifesti fuori per Napoli. Al che il mio avvocato ha chiamato il promoter e gli ha detto, ma scusi, lei sta vendendo i lati di bicicletta? Eh, ma i lati di bicicletta quest'anno non vengono, come chi mette sul palco? Basta che metti tre che suonano le trumpette, un cantante, chiatta, chiatta, e la cosa è apposta. Io ho voluto conoscere questo signore, ho detto, tu sei un genio, tu devi diventare il mio manager. E un altro racconto che poi ti dirò, è stato quando poi, che questo qui invece lo raccontiamo in questi giorni, è quando lui ha venduto il mio primo CD, che io ancora non avevo fatto, hai capito? Quindi, insomma, raccontiamo... La genialità, la creatività anche. Sì, esatto, perché nel nostro lavoro l'importante è la creatività, insomma, e anche sapersi vendere. Insomma, raccontiamo queste cose qua molto divertenti. È vero, perché tanti personaggi che appunto animeranno il palco e che per l'appunto hanno un po' costellato anche la tua carriera, molti personaggi anche un po' surreale, che però ti hanno permesso anche di realizzare questo fantastico sogno di video. Io da bambino, io vengo da una famiglia molto povera, da bambino abitavo in un paese lontano, anni luce dallo show business, però sognavo di fare quello che sto facendo, l'entertainer. Mi hanno detto che si dice entertaining, quello che segnavo era di fare lo show. E devo dire che ho incontrato tantissime persone nella mia vita artistica, non solo, che mi hanno insegnato tanto, mi hanno dato tanto, però devo dire che ho studiato anche tanto. E una delle prime lezioni che ho avuto è venire qui a Napoli a studiare Totò. Era una cosa che a me piaceva tantissimo. Cosa hai tratto da quell'insegnamento? Innanzitutto l'umiltà, innanzitutto il fatto di stare molto attento, di guardarsi attorno, di guardare molto le persone e di rispettarle. E poi di non prendersi mai sul serio, perché Totò nella vita era una persona molto seria, ma sul set era... Ora, naturalmente, con le due proporzioni, Totò è lassù e io sono qua giù. Però quello che mi ha insegnato è questo, capito? E cerco di attornarmi da queste persone. Io quando vado in giro, da Millie Carlucci fino all'ultima persona che incontro, cerco sempre di prendere le cose che mi possono far migliorare. Voglio morire il meno peggiore possibile, capito? Beh, belle parole, Paolo. È la verità. Sei una bella persona, veramente. Grazie di regalarcele, perché ecco, non è scontato per un artista riuscire anche a regalare queste pillole di saggezza, io le chiamo così, però sono comunque dei momenti che permetto anche di far riflettere nel nostro pubblico, anche i giovani che vogliono magari intraprendere questo tuo stesso percorso artistico, comunque il percorso artistico del mondo dello spettacolo e magari oggi un po' per il social o per altre dinamiche sono invece un po' fuorviati. Quindi è sempre giusto restituire la linea guida giusta per un artista poi di tale spessore come te, perché effettivamente, allora, se c'è coerenza, se c'è credibilità, se c'è amore per questo mestiere, allora la verità poi viene fuori e i risultati sono quelli che stiamo raccontando. Ti ringrazio. Questo è quello che mi ha insegnato tutte le persone che ho incontrato nella mia vita a partire da Totò, proprio, capito? Cioè, proprio il fatto che noi, il succo dello spettacolo che vedrete in questi giorni è proprio questo. Perché siamo venuti al mondo? Questo è il succo, è la domanda e alla fine dirò perché siamo venuti al mondo. Non lo diciamo adesso, però possiamo dire, Paolo, che per quanto riguarda questo imperdibile momento, questo show che ti vede protagonista, tu non sarai solo sul palco, ma sarai accompagnato da... Da musicisti straordinari. Grandissimi artisti, musicisti, raccontiamolo un po' anche a pubblico. Sì, allora... Perché renderanno ancora più speciale questo viaggio nei tuoi ricordi. Innanzitutto molte persone vengono per vedere anche il Paolo Belli di Ballando con le stelle, quindi con me ci sono i miei musicisti, sono con me da 30 anni, che sono quelli di Ballando con le stelle. Quindi la qualità è molto alta. Però come sempre poi cerchiamo di fare è di aver imparato l'arte e poi metterla da parte. Quindi grandi artisti, grandi musicisti, ma gente che non si prende molto sul serio, infatti ci prenderemo in giro sul palco. Però proprio per far capire il fatto che è un grande privilegio quello che abbiamo, che non ci ha regalato niente nessuno, nel senso che dobbiamo studiare tanto. Ogni giorno io vedo i miei musicisti che suonano, 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 quindi devi farti trovare pronto. Però quando sei sul palco devi lasciare quel senso di leggerezza, perché i problemi, le persone ne hanno già tanti. Quindi la nostra missione è farli stemperare per due ore, di farli passare una... Un momento di leggerezza. Esatto. Paolo, la tua storia è sicuramente ricca di soddisfazione e tanto altro. Ti chiedo però, ad oggi, se Paolo Belli potesse tornare indietro, cambierebbe qualcosa della propria carriera artistica o rifarebbe tutto in ugual modo? Qualcosa cambierei, perché dagli errori si impara tanto e soprattutto si cerca di non rifarli. Quindi se tornassi indietro cercherei di sbagliare il meno possibile. Però, dai, come diceva Truisi, ricomincerei da tre, insomma, perché tre cose mi sono venute bene nella vita. C'è qualche aneddoto che possiamo raccontare che ha rappresentato la tua vita? Allora, sì. Al di là dello spettacolo, al di là dello spettacolo, che ricordi con maggiore affetto. Ce ne sono alcune che consiglio a tutti i ragazzi di fare, di lasciarsi andare a quello che la tua anima ti dice di fare, nel senso buono però, di non farsi prendere dall'eruenza. Per esempio, io sono stato uno molto intraprendente. Una piccola cosa, te ne racconto una su, su tante. Milli Carlucci mi chiama per Ballando con le stelle e naturalmente mi viene l'ispirazione di scrivere una canzone. Quando è stato ora di portarla, ho cominciato a mettere le mani avanti. Ma sai, ho un provino, ma non so se funziona. Cioè, sai, è come andare a dare un esame, no? Però l'ho dovuto affrontare questo momento, perché se avesse dovuto aspettare che lei mi dicesse, c'hai una canzone, magari arrivava un altro che gliela dava prima di me. Gliel'ho data e dopo dieci secondi la gente ha voglia di ballare. Hanno cominciato a cantare, a ballare. E lì ho detto, tra me e me, vedi, al di là del fatto che qualcuno dall'alto mi ha dato questa possibilità di esprimermi con la musica, ma però anche il fatto di essere stato intraprendente ha fatto sì che Mili ha detto, fermi tutti, questa sarà la sigla. E concludo dicendoti che tre anni fa le dissi, dai, Mili, cambiamo. Perché, insomma, cosa cambiamo? Ma tu sei matto. Questo è ormai un marchio di fabbrica che anche quando tu non ci sarai più la gente continuerà a cantare. Quindi vuol dire avere raggiunto l'immortalità. E aver avuto visione anche un po'. Ma lì c'è qualcuno dall'alto che vede e provvede. Però se, e anche questa è un'altra cosa che noi raccontiamo nello spettacolo, se tu non sei intraprendente, se tu non sei sfacciato, non capita, insomma. Però non voglio entrare nel merito. Eh sì. Tra l'altro, Paolo, la tua carriera è molto lunga e invidiabile. Sei un artista a poliedrico, perché sei cantautore, condottore televisivo, interprete e a teatro. Ma come inizia la tua carriera? Ecco, perché, hai detto anche prima, io venivo da un pesino proprio lontano da queste che sono le dinamiche dello spettacolo. Come inizia quindi la tua carriera? Quando capisci soprattutto che questa, quella dello spettacolo, sarebbe stata poi il tuo mondo, quello sarebbe stato il tuo lavoro, la tua professione? Allora, Galeotto fu il pianoforte di un ragazzo che suonava vicino a casa mia. Io con mia mamma passai di lì e sentivo queste note. Avevo cinque anni e come sai i bimbi sono influenzabili, no, in qualsiasi secolo. Se magari passavo e questo giocava a baseball, chiedevo, mamma portami a baseball. Invece questo ragazzo suonava il pianoforte, mamma mi porti a pianoforte. Fortunatamente lei mi ha portato e ti posso dire che poi strada facendo ho scoperto che suonare, stare sul palco, insomma, fare l'entertainer è la cosa che mi viene alla meno peggio di tutto. Il resto, il mio amore dice non sei capace di fare niente, però sul palco sei bravo, fai quello. e come ti dicevo prima, qualcuno dall'alto ha detto la consapevolezza di... Non ce l'ho mai, non ce l'ho neanche adesso. Sono gli altri che mi danno sicurezza. Guarda, qua dietro alle quinte c'è Francesca che è la persona che sta dietro al palco. Salutiamola. Che sta dietro al palco ogni volta che devo cominciare lo spettacolo e lei potrebbe dirti quelle che le confesso tutte le volte, che dico ma chi me l'ha fatto fare, perché sono insicuro, perché sbaglierò, poi invece esci... E sei tutt'altra persona, Paolo. Ma sì, no, perché la gente... Viene naturale, ecco, si accendono le luci, si accende le emozioni, ti emozioni ed emozioni. Ma vedi gli occhi delle persone, capito, che ti vogliono bene, che ti fanno star bene, quindi insomma... E mi auguro che sia così da questa sera fino a domenica al Teatro Troisi. Quali sono i tuoi progetti per il futuro, Paolo? Ci sono nuovi progetti all'orizzonte che possiamo raccontare? Di far bene il teatro adesso. Io cerco di fare le cose... Esatto, perché anche tu interpreta a teatro, ma quale è la veste nella quale ti riconosci meglio? Lo spettacolo? O c'è una... So quello che mi viene peggio, stare giù dal palco è una cosa che non so fare. Mi amore mi dice non toccare niente, qualsiasi cosa che tocchi si rompe. E invece sul pal... Allora cerco di far bene questo. Paolo, vogliamo invitare il nostro pubblico a venire ad applaudirti da stasera fino al domenica 19 marzo al Teatro Troisi di Napoli con il tuo show pur di fare commedia? Io vi invito tutti quanti perché naturalmente è uno show che diventa molto molto divertente anche con il pubblico perché ci sarà da interagire. E mi auguro anche perché ho desiderio di abbracciare il pubblico napoletano uno per uno e questa sera vorrei abbracciare tutti quindi venite tutti a teatro perché ho bisogno di dirvi grazie per l'affetto che mi regalate da 65 anni a questa parte. Ma grazie a te invece delle emozioni che ci regali tutte le volte e questo tuo abbraccio in realtà virtuale arriva adesso anche ai nostri telespettatori di mattina live. Grazie a voi. Grazie a Paolo Belli lo ricordiamo da stasera fino a domenica 19 marzo al Teatro Troisi di Napoli pur di fare commedia. Perdonami se ti interrompo oggi domani sabato alle 21 e domenica invece è pomeridiana. Perfetto a dalle 18? Sì. Grazie a Paolo Belli grazie davvero noi ci ritroviamo tra pochissimo piccolo break restate con noi.